Quindi il webinar di oggi, l'intervento di oggi, la chiacchierata che ci facciamo insieme questa mattina, almeno il taglio che mi piacerebbe dargli è quello proprio di cercare una definizione condivisa, nel senso che al momento non c'è scritto da nessuna parte esattamente che cosa sia l'accountability di una pubblica amministrazione, quando una pubblica amministrazione può ritenersi accanto, quali sono gli elementi, quali sono gli strumenti. E quindi l'idea è di ragionarci insieme, di cercare insieme una definizione condivisa, provando a fare un percorso in questa retta che trascorriamo insieme, cioè esattamente che cos'è, qual è la definizione di accountability, a cosa facciamo riferimento nel momento in cui parliamo di accountability, che cosa ci torna indietro nel momento in cui una pubblica amministrazione decide di investire tempo, risorse, strumenti, non è banalissimo, come immagino abbiate già avuto modo di vedere dalle prime video lezioni e le prime interviste, bisogna dedicarsi all'accountability, altrimenti difficilmente ritornare indietro. Quali sono i riferimenti italiani rispetto al tema dell'accountability? Perché è importante pensarci e poi volevo provare a ragionare insieme a voi sulla pratica dell'engagement, cioè sul coinvolgimento dei cittadini che se volete è il momento in cui tutta questa partita dell'accountability trova una sua finalizzazione, trova una sua ragione di essere. E infine vedremo insieme un esempio italiano particolarmente virtuoso, ormai avviato da anni, a cui a mio avviso una pubblica amministrazione può guardare per capire che cos'è l'accountability e come può essere fatto. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta, come vi dicevo non c'è scritto in nessuna parte, non esiste una definizione standard, è diverso rispetto magari agli altri temi che abbiamo trattato nel webinar precedente, ad esempio io posso darvi una definizione più o meno stabile di che cosa sia la partecipazione nella pubblica amministrazione, posso darvi un'idea abbastanza precisa di che cosa sia l'open data, in quel caso ad esempio esistono degli standard, esistono dei riferimenti, esistono delle pratiche consolidate, quindi esiste tutta una serie di riferimenti a cui guardare per capire di che cosa si tratta. Nel caso dell'accountability è un po' diverso ed è una cosa che probabilmente si va sciogliendo in questo periodo e quindi è utile provare a guardarla proprio con questo approccio, cioè un approccio di condivisione, di definizione condivisa. Se andiamo a guardare a quelle che sono le letterature di riferimento rispetto al tema dell'accountability nella pubblica amministrazione, possiamo vedere che in molti casi il termine viene associato al concetto di trasparenza, al concetto di apertura, di buon governo, apertura in eccezione di open government, però la definizione, o quanto meno l'accezione che ci piacerebbe condividere con voi è un po' diversa, cioè partendo da queste premesse, partendo da queste basi, sviluppare il concetto di accountability ruota soprattutto intorno alla pubblica amministrazione che si rende visibile all'esterno, ma soprattutto rende conto della propria condotta, rende conto del modo in cui prende decisioni, nel modo in cui spende soldi, nel modo in cui fa alcune scelte piuttosto che altre, nel modo in cui selezioni il personale, qualunque attività che preveda una scelta e quindi un utilizzo, un investimento di risorse pubbliche, in qualche modo deve essere resa accanto, deve essere resa visibile, deve essere resa motivata. Questo significa, come ci dice la definizione rappresentata in questo slide, che la stessa pubblica amministrazione si mette sotto schiaffo, se mi fate passare l'espressione, rispetto a un giudizio esterno e quindi accetta le conseguenze del giudizio degli altri e non solo, vedremo più avanti che la perfetta quadratura del cerco sia nel momento in cui il giudizio di qualcuno che viene dall'esterno riesce a diventare feedback e quindi riesce a diventare qualcosa su cui la stessa pubblica amministrazione può imparare a ritarare le proprie scelte, può migliorarsi, quindi trova una sua concretezza in questa sorta di circolo virtuoso. La definizione del termine accountability risale ai tempi di Guglielmo il conquistatore, più o meno tiranno francese che riuscì a passare la manica e quindi conquistare i territori che erano al nord, dell'attuale Inghilterra e dell'attuale Gran Bretagna. In quel caso Guglielmo utilizzò quello che oggi possiamo chiamare la rendicontezione del accountability come strumento di potere, cioè fese un censimento molto preciso di quelle che erano le proprietà, quelle che erano i fondi, i denari, se volete, di tutte le persone che erano riuscite a conquistare e quindi attraverso un censimento, attraverso una definizione puntuale di quello che succedeva all'interno di quei territori, partendo proprio dal denaro, partendo dal modo in cui i fondi venivano distribuiti, poteva esercitare uno strumento di controllo. Questa parola, questa formula di controllo è più o meno quella che in qualche modo abbiamo ereditato anche nella definizione. Accountability è ovviamente una parola inglese ed è una sorta di crasi tra due parole che sono da un lato account e dall'altra ability, cioè l'abilità di poter essere, di rendicontare quello che si ha, quello che si ottiene, di rendicontare, di motivare le proprie scelte. Questa cosa della definizione del termine inglese, cioè quantomeno della difficoltà della localizzazione del termine accountability in lingua italiana, a mio avviso è un ostacolo forte, nel senso che è difficile tradurlo in italiano, rendicontabilità suona in maniera diversa, richiama più un concetto di accountability bancaria, se volete, più un qualcosa legato al denaro, legato al modo in cui vengono investiti i fondi. In realtà, come abbiamo visto e come vedremo meglio più avanti, accountability è un concetto un po' più ampio e sarebbe interessante se riuscissimo a far entrare dentro questa definizione una serie di altre cose, oltre al semplice rendicontazione di come vengono spesi i fondi. La pubblica amministrazione deve essere accountable, dove c'è scritto in maniera così diretta, più o meno da nessuna parte, però tutta la normativa e tutta l'evoluzione sociale intorno al tema della trasparenza ci porta a dire che una pubblica amministrazione è giusto, è corretto, è indispensabile, è sempre più indispensabile che sia accountable, che riesca a rendersi visibile nei confronti dei soggetti esterni. Detto in questo modo, però, l'accountability potrebbe sembrare quasi come una sorta di atteggiamento di una pubblica amministrazione. In realtà, quello che è l'obiettivo di questa chiacchierata, e se volete più in generale, quello che è l'obiettivo di questo corso dedicato al tema dell'accountability è fornire strumenti, riferimenti certi rispetto a che cosa significa essere accountability, cioè non solo una pubblica amministrazione che acquisisce questo atteggiamento, ma in realtà che fa cose, che destino fondi, che acquisisce profezionalità specifiche proprio per potersi rendere accountable. La prima cosa che mi è venuta in mente, per provare a capire, a ragionare insieme, vi ricordo, è comunque una ricerca condivisa di una definizione, quindi chiedo anche un aiuto da parte vostra, e quello non so se ve lo ricordate dall'Irfan, il cosiddetto libro dei perché, una pubblica amministrazione è davvero accountable quando riesce a rispondere alle domande dei cittadini. Quali sono queste domande? Io non lo so, è impossibile probabilmente fare una cernita completa di tutte le domande a cui una pubblica amministrazione deve riuscire a rispondere per poter davvero essere accountable, però una selezione di base ho provato a farla in questa slide, cioè quanto è costato un'opera piuttosto che un servizio, chi se ne sta occupando, sulla base di quali professionalità, sulla base di quali competenze, quanto è costato fin'oggi e quanto ancora c'è da spendere, quanto sono aumentati i costi rispetto a un'ipotesi iniziale e perché questi costi nel caso lo siano perché sono aglievitati, se c'è un ritardo, quanto è il ritardo accumulato e come si pensa di orviare il problema del ritardo, quando sarà terminata, domande di questo tipo, domande che riescano a rendere tutti i soggetti esterni consapevoli di quello che sta accadendo all'interno della pubblica amministrazione. In questo caso notate, ad esempio, che molte di queste domande partono da un concetto di budget, cioè quanti soldi sono stati spesi e come sono stati spesi. Probabilmente la cosa più facile, cioè ragionare in termini di soldi, di risorse allocate è la cosa più intuitiva, probabilmente ci sono mille altri modi per raccontare l'accountability, per rendersi visibile all'esterno a questi magari li vedremo meglio più avanti, però innanzitutto, come dire, partire dal mero denaro è il riferimento più condiviso e diventato più facile anche per far capire i soggetti esterni. Nella ricerca di una definizione condivisa di accountability abbiamo ritenuto utile, come già vi accennavo la scorsa settimana del webinar di lunedì scorso, provare a guardare chi se ne sta occupando in questo momento, chi è che a livello nazionale, internazionale, rappresenta, sta dando una forma, sta provando, sta cercando in maniera altrettanto condivisa, cercare una definizione, cercare una serie di strumenti utili a rendere una PA accountable. Certamente il primo riferimento che ci è venuto in mente è Open Government Partnership ed è più o meno la cosa a cui guarderemo nel corso di tutti i moduli e di tutti i seminari che faremo insieme. Open Government Partnership a livello internazionale, ne parlavamo durante lo scorso webinar, credo abbia avuto modo di vedere almeno un paio di video lezioni dedicate al tema, è un accordo multilaterale internazionale dove i paesi che partecipano si impegnano ad attivare una serie di azioni sul proprio territorio condivise a livello internazionale e basate su un piano d'azione. Questo piano d'azione a sua volta è oggetto di visibilità, di trasparenza, di accountability e viene monitorato. Uno dei aspetti più interessanti a mio avviso del modo in cui Open Government Partnership opera rispetto al tema dell'accountability è che non solo pone ai paesi la questione dell'accountability e quindi in qualche modo chiede ai singoli paesi che aderiscono a Open Government Partnership di dedicare delle azioni specifiche al tema dell'accountability, ma a sua volta rende accountable il processo con cui vengono portati avanti i piani di Open Government Partnership. Infatti all'interno del processo di definizione, che è quello che vedete rappresentato in questo slide, dei piani di azione, vedete che a un certo punto subentra un... più o meno... aspettate, vediamo se riesco a mostrartelo così... no... sì... ecco qui... in questo caso, dopo aver fatto i vari passaggi, un paese quindi diventa... c'è un primo check di elegibilità del paese, c'è una firma, una dichiarazione di intenti, c'è la creazione del primo piano, l'implementazione attraverso un forum condiviso di soggetti che partecipano alla definizione e al monitoraggio e all'implementazione del piano e a un certo punto subentra l'IRM, cioè il meccanismo indipendente di valutazione, quindi è come se Open Government Partnership chiedesse a un soggetto terzo, esterno al paese che sta implementando il piano, di fare una sua valutazione su come stanno andando le cose. Questo meccanismo dell'avere una valutazione esterna da parte di qualcuno che non è coinvolto con le azioni portate avanti da quel paese, genera accountability, un fattore forte di accountability, nel momento in cui la valutazione viene da qualcuno da fuori, questo qualcuno si presume, non abbia nessun interesse per una valutazione positiva piuttosto che negativa e questa valutazione può essere considerata uno dei primi semi per generare l'accountability all'interno di un processo. In questo caso, ovviamente sulla base di questo feedback dato dal meccanismo indipendente di valutazione, i paesi che aderiscono per Open Government Partnership ritarano il proprio piano d'azione e a conclusione del piano d'azione, che comunque è una conclusione momentanea, nel senso che successivamente poi parte un secondo piano, ancora una volta il meccanismo di valutazione indipendente fa una sua ulteriore valutazione su tutto l'iter e anche qui diventa un momento di apprendimento per i piani successivi. Questo passaggio, quest'idea di usare l'accountability come momento di feedback particolare, come momento di apprendimento attraverso cui ritarare le azioni pubbliche del periodo successivo, a mio avviso è uno degli aspetti più interessanti e una delle risposte alle domande perché fare accountability, perché vale la pena fare accountability? La pubblica amministrazione può apprendere dall'accountability, è un investimento, ripeto, lo vediamo meglio più avanti, però non è una cosa proprio semplicissima da fare, ci vogliono soldi, ci vogliono risorse, ci vuole del tempo, però è una cosa che può tornare indietro e non solo, voi immagino sappiate che l'autorità nazionale dell'anticorruzione ANAC, attualmente presiduta da Cantone, non solo si occupa di monitorare in termini normativi quello che fa la pubblica amministrazione sul tema della trasparenza, sul tema dell'accountability, ma collabora anche nella definizione di linee guida e di riferimenti precisi, utili a una pubblica amministrazione nel momento in cui volesse davvero diventare accountable. Altro soggetto indispensabile a cui ovviamente guardiamo nel momento in cui ragioniamo gli accountability all'interno della pubblica amministrazione italiana e il Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione che da anni suggerisce proprio per proprio mandato istituzionale alle pubbliche amministrazioni come fare trasparenza e di cosa devono tenere conto nel momento in cui fanno trasparenza e quali sono i riferimenti condivisi, recentemente ne parleremo più avanti, ad esempio è stato approvato il FOIA, l'accesso civico generalizzato che in qualche maniera è stato, l'approvazione di questo provvedimento è stato fortemente voluto dall'attuale Ministro per la pubblica amministrazione e capite che in questo caso rispetto a un cambiamento culturale, un cambiamento normativo così forte c'è la possibilità che chiunque possa accedere ai documenti della pubblica amministrazione senza una motivazione specifica come veniva prima, non può non essere accompagnato, nel senso che le pubbliche amministrazioni che si trovano di fronte alla possibilità che chiunque faccia un accesso pubblico generalizzato in qualche maniera devono sapere come come trattare queste richieste di accesso e quindi qui il Dipartimento della Funzione pubblica è indispensabile per aiutare le pubbliche amministrazioni a capire come ragionare in termini di novità normative e quindi in termini di accountability. Altro riferimento italiano utile, più o meno ritorno a quello che dicevamo prima, è il piano Open Government Partnership, il terzo piano in particolare che dà il seguito al secondo piano che a sua volta dà il seguito al primo e in questo caso il tema dell'accountability è trattato anche in maniera specifica, ci sono delle azioni riportate all'interno del piano che ci fanno capire esattamente in questo momento per la pubblica amministrazione italiana che cos'è l'accountability e attraverso quali modalità riesce a concretizzarsi nell'iter quotidiano di una pubblica amministrazione. Questo è probabilmente una delle domande più difficili, a che serve? Perché facciamo accountability? Va bene la normativa, va bene il fatto che una pubblica amministrazione per forza di cose deve sottostare a tutta una serie di provvedimenti che le impongono, a una serie di misure di trasparenza, di partecipazione di accountability, però in realtà può essere utile ragionare anche in termini più ampi per cercare di capire alla fine per quale ragione davvero ci si attiva in maniera così onerosa per avere indietro, per riuscire ad essere accountable. Probabilmente innanzitutto è una questione di fiducia, la pubblica amministrazione ma qualunque altro ente nel momento in cui fa accountability immediatamente guadagna, ne guadagna in termini di fiducia, cioè più io mi rendo trasparente nelle scelte che faccio, più è facile che i soggetti esterni su cui quelle scelte ricadono in qualche modo abbiano fiducia dal momento che non avendo nulla da nascondere, dal momento che do visibilità alle cose che faccio, diventa molto più facile per chi sta all'esterno fidarsi del mio lavoro, fidarsi delle cose che sta facendo. Certamente legato al tema della fiducia c'è il tema della legittimazione, in questo caso non è soltanto un problema, cioè quantomeno non è soltanto una questione che si deve porre alla pubblica amministrazione, ma è anche una questione, ad esempio l'accountability bancaria ha un impatto diretto, un impatto forte sulla questione della legittimazione, se una banca dimostra di spendere in maniera trasparente, di gestire in maniera trasparente il denaro dei propri correntisti, in qualche maniera è legittimata a fare il proprio mestiere, parlo di banche, ma anche parlo, visto i recenti fatti di cronaca, di banche in generale e di meccanismi di valutazione e di controllo dei meccanismi bancari. Poi certamente per la pubblica amministrazione c'è un vincolo di trasparenza, un vincolo di trasparenza è rappresentato ovviamente dalla normativa, ne abbiamo varie in Italia, su questo se non ricordo male, proprio nel modulo che avete fatto questa settimana c'è un learning object dedicato al tema della normativa sulla trasparenza nella pubblica amministrazione italiana e quindi oltre a una questione di fiducia, oltre a una questione di legittimazione, la pubblica amministrazione in particolare deve essere trasparente perché la normativa dice che la pubblica amministrazione italiana deve esserlo, la pubblica amministrazione italiana non solo. Non è soltanto una questione di pubblica amministrazione, però anche le imprese private utilizzano il meccanismo dell'accountability, pensate al modo in cui qualunque azienda che produce beni di tipo boh, immaginate l'IKEA rappresentata in questo slide, nel momento in cui vi vende mobili, vi dice anche che tutti i mobili che vi ha venduto prendono del legno, però l'IKEA si impegna a piantare una corrispettiva quantità di alberi in maniera tale che questa cosa sia sostenibile. Questo meccanismo, questo modo di dare visibilità alle scelte aziendali anche all'esterno diventa un fattore di legittimazione, diventa un fattore che fa operare scelte rispetto al mercato verso un'azienda piuttosto che un'altra. Se c'è una volontà di fare un acquisto responsabile, l'accountability mette le aziende nella posizione di potersi rendere responsabili nei confronti dei propri acquirenti. Certamente il tema centrale dell'accountability non può non essere osservato da un punto di vista politico, se volete la politica dovrebbe vivere di legittimazione, di trasparenza e di visibilità nei confronti dell'esterno, pensate ad esempio al delicato tema delle lobby e a come la politica che in qualche maniera necessita di un finanziamento per poter funzionare, a sua volta in qualche modo debba rappresentare gli interessi anche dei soggetti che l'hanno finanziata e quindi la regolamentazione della questione delle lobby. In questo caso è un tipico esempio di accountability su cui, non so se volete anche un po' nervo scoperto, è una cosa molto difficile da gestire, finanziamento pubblico, finanziamento privato, anche qui il tema dell'accountability diventa centrale. Tutto questo per dirvi che non è soltanto una questione di pubblica amministrazione, accountability è un aspetto che riguarda tutta una serie di altri soggetti che operano in vari mercati, che fanno anche cose diverse dalla pubblica amministrazione. Certamente la pubblica amministrazione per proprio mandato istituzionale, per il modo in cui si fa carico delle scelte che incidono su tutti i cittadini, non può non rendersi accountable. Ci sono una serie di normative in questo caso, ad esempio immagino che tutti sappiate che i siti della pubblica amministrazione devono avere una sezione di amministrazione trasparente in cui vengono riportate tutta una serie di informazioni che aiutano chi è all'esterno a capire come quella pubblica amministrazione è organizzata, come quella pubblica amministrazione spende i propri soldi, quali provvedimenti attivati e tutta una serie di informazioni ulteriori. Però anche qui mi faceva piacere ragionare insieme a voi sul fatto che a fronte di una normativa chiara, condivisa, che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni italiane, quindi parliamo di 1800 comuni, parliamo di regioni, parliamo di ministeri, parliamo di ASL, parliamo di qualunque soggetto pubblico, c'è chi declina questa esigenza di risposta alla normativa anche in maniera diversa, ad esempio a me piace molto il modo in cui la regione Emilia Romagna, partendo da un vincolo normativo che è quello di articolare una sezione trasparente e abbia costruito questa specie di piccolo cruscotto che oltre a rendere la regione Emilia Romagna adempiente rispetto ai vincoli di legge, fornisce una sorta di strumento di trasparenza a cui chiunque può accedere, mettendo certamente disposizione di dati in formato aperto e pubblicando una serie di cruscotti, una serie di piccoli accorgimenti che divulgano rispetto a un tema complesso come quello della trasparenza e della pubblica amministrazione, rendono più facile l'accesso a queste informazioni, per me davvero quello dell'Emilia Romagna è veramente un caso scuola rispetto a come un adempimento di legge in tema di trasparenza può essere trasformato, può essere rafforzato attraverso l'accountability. Certamente vi dicevo, non è soltanto una questione della pubblica amministrazione, però è interessante notare come soggetti che magari non sono pubblica amministrazione e che magari non sarebbero neanche tenuti ad avere un vincolo di trasparenza così forte, adottano sistemi propri della pubblica amministrazione e dell'open government per rendersi più accountable e per rendersi più trasparenti. Uno dei casi italiani più interessanti a mio avviso rispetto proprio a questo tema è Open Cooperazione, che è un portale a cui su base volontaria possono aderire le ONG, anche lì è un soggetto che ha molto bisogno di legittimazione, di trasparenza, di fiducia nei confronti degli esterni perché vivono di finanziamenti pubblici. Attraverso la tecnica dell'open data, attraverso la tecnica se volete propria dell'open government, possono partecipare, possono collaborare, possono unirsi a Open Cooperazione e quindi rendere trasparenti i propri dati. In questo caso vedete come l'open data, come i cruscotti, come una serie di strumenti propri dell'open government, propri del tema della accountability all'interno della pubblica amministrazione, si rafforzano, sono utili e quindi vengono resi disponibili anche da soggetti di pubblica amministrazione e non solo. Sintetizzando al massimo, il meccanismo che volevo proporvi rispetto al tema dell'accountability è più o meno questo, cioè la pubblica amministrazione deve, vediamo se riesco di nuovo a usare il cursore, la pubblica amministrazione deve rendersi accountable per una serie di provvedimenti normativi che impongono alla stessa pubblica amministrazione di esporre alcune informazioni, di motivare delle scelte di rendersi visibili nei confronti dei soggetti esterni. Questi soggetti esterni arrivano a queste informazioni, possono scaricarle, possono rimetterci mano, possono dare il proprio contributo e possono generare un feedback. La generazione di questo feedback nell'ipotesi ideale deve essere qualcosa di cui la pubblica amministrazione a sua volta può speculare, se volete, può usarlo come base, come riferimento per articolare migliori politiche per la programmazione successiva. Questo dovrebbe un po' essere il circolo virtuoso dell'accountability e dovrebbe essere una delle ragioni per cui la pubblica amministrazione si preoccupa di fare accountability e si pone in una posizione di dialogo rispetto ai soggetti esterni che collaborano, che dialogano, che definiscono, che migliorano le politiche pubbliche sulla base dei propri feedback. In questo caso il tema centrale, la parola centrale che probabilmente spiega meglio questa sorta di paradigma, questo circolo virtuoso dell'accountability, a mio avviso c'è la parola engagement, che ancora una volta, perdonami, è una parola inglese, che significa coinvolgimento, che significa con la capacità della pubblica amministrazione di coinvolgere soggetti che sono all'esterno e che generano un feedback. Il riferimento resta sempre Open Government Partnership e su questo riprendevo la citazione di una delle prime persone che si è occupato in maniera diretta di Open Government Partnership, che diceva che il civic engagement è il cuore di Open Government Partnership, cioè la ragione per cui l'Open Government deve essere e deve funzionare bene è proprio il fine ultimo dovrebbe essere quello di coinvolgere i cittadini. Non è facile, non è facile, l'abbiamo detto più volte, immagino che lavorando in pubblica amministrazione vi rendiate conto immediatamente, per essere accountable, per riuscire a coinvolgere i cittadini servono certamente professionalità, certamente servono risorse e certamente serve tempo, è molto più difficile prendere una decisione, immagino che chiunque di voi abbia partecipato in una riunione di condominio sappia quanto sia complicato prendere decisioni in maniera condivisa, sarebbe molto più facile se qualcuno decidesse per tutti. In realtà questo qualcuno che decide per tutti genera problemi, genera disaffezione, è difficile se i cittadini non collaborano a quelle che sono le scelte della pubblica amministrazione, riuscire a farle affezionare alla stessa pubblica amministrazione, riuscire a farle affezionare alla cosa pubblica. Potrei citarvi milioni di dati in questo caso, guardando ancora la cronaca di questi giorni, se pensate che l'altro giorno si è votato qui vicino a Ostia e due terzi della popolazione non è andata a votare perché non ritiene che il momento di votazione, il momento di partecipazione possa essere risolutivo per i propri problemi, capite quanto sia necessario e quanto, se volete anche la stessa Unione Europea lo dica a gran voce da più tempo, attivare quelle cosiddette politiche di ascolto che in qualche modo riescano a far affezionare di nuovo i cittadini al modo in cui la pubblica amministrazione risolve problemi e quindi rendersi credibile, indispensabile per una pubblica amministrazione in questo senso. Attirare l'interesse delle persone, ripeto, non è facile perché è un investimento, perché è molto più facile interessarsi ad altro, però se volete da un po' di tempo a questa parte abbiamo strumenti migliori. L'aspetto che mi interessa di più far passare rispetto al tema dell'engagement correlato alla questione dell'accountability è che se l'accountability non genera engagement, cioè se attraverso l'accountability la pubblica amministrazione non riesce a coinvolgere cittadini, utenti nelle proprie attività, questa accountability, questa trasparenza, questa qualunque attività che richiami il tema dell'accountability resta perfettamente fine a se stessa, non serve a nulla, è soltanto un adempimento di legge, non ci guadagniamo nessuno, non ci guadagna la pubblica amministrazione, non ci guadagna la società in cui questa cosa avviene. Le politiche d'ascolto in questo caso sono il tema centrale e ancora una volta vorrei che si rafforzasse nella ricerca di una definizione condivisa di accountability la forte correlazione tra accountability e politiche di ascolto, senza una politica d'ascolto l'accountability resta lettera morta, resta fine a se stesso. Non è facile, come dicevamo, e in questo caso attivare processi di accompagnamento, processi che aiutino i cittadini a capire che la partecipazione e il coinvolgimento all'interno delle dinamiche della pubblica amministrazione è un diritto e un dovere civico, è assolutamente indispensabile. Fra l'altro l'attivazione di strumenti di engagement in questo momento è più semplice rispetto al passato e ovviamente la caratteristica che rende più semplice la possibilità di attivare politiche di ascolto, politiche attive di ascolto cittadini, certamente la tecnologia gioca un ruolo centrale. La possibilità che pubblica amministrazione e cittadini possano parlarsi attraverso sistemi informatici molto semplici, attraverso smartphone che in qualche istante possono articolare un feedback più o meno strutturato su quelle che sono le attività portate avanti della pubblica amministrazione è un fattore senza precedenti, è una cosa relativamente recente e anche qui in qualche modo va cercata in maniera condivisa, vanno cercate le modalità per rendere questo feedback, per rendere la tecnologia centrale rispetto al modo in cui la pubblica amministrazione porta avanti politiche di ascolto e porta avanti politiche di accountability. Volevo farvi riflettere sul fatto che in realtà la pubblica amministrazione questa cosa l'ha sempre fatta, sin dall'inizio, sin dalle, ad esempio in letteratura, uno dei riferimenti classici sono i land tedeschi dove c'è una fortissima connotazione di partecipazione, c'è una sorta di capo del villaggio a cui gli altri cittadini vanno a raccontare i propri problemi e in qualche modo si cerca in maniera condivisa la risoluzione migliore. Questa cosa negli anni si è un po' persa, ci sono ripeto mille casi, io uno dei più interessanti anche per formazione professionale, una delle storie più carine che mi viene a raccontare in questo caso è quella di Patrick Geddes che vedete rappresenta questo signore barbuto che vedete rappresentato in questo slide, è di Edimburgo, è nato alla fine dell'Ottocento da quelle parti, è un biologo e nel momento in cui l'India era protettora, anzi era colonia inglese, venne mandato lì per questioni che riguardavano il suo lavoro e per primo ha attivato politiche di urbanistica partecipata, cioè è la persona che per la prima volta ha ascoltato la popolazione, ha cercato di coinvolgere nella cura dei giardini della città di Bombay in particolare e quindi ha creato, se volete, una politica partecipata attraverso la cura dei singoli giardini urbani, degli orti urbani, gli indiani potevano prendersi cura del proprio territorio e trovavano dei momenti di confronto, dei momenti di collaborazione e quindi problemi che riguardavano la società venivano riferiti in qualche maniera a livello centrale alla pubblica amministrazione, in questo caso al protettorato inglese e c'era il tentativo di una risoluzione comune. Ripeto, è un mestiere che la pubblica amministrazione ha sempre fatto, però nel tempo questa cosa si è, se volete, anche un po' perso, quantomeno c'è stata una sorta di scissione tra questa capacità della pubblica amministrazione di ascoltare e risolvere problemi in maniera condivisa e i cittadini che in qualche maniera vorrebbero anche poter partecipare e dandogli una lettura veberiana, se volete, il responsabile della disaffezione in qualche modo dei cittadini rispetto alla risoluzione condivisa dei problemi è da imputare alla burocrazia, cioè la burocrazia in qualche modo si è specializzata, ha reso il mestiere della pubblica amministrazione molto strutturato attraverso regole precisi, attraverso provvedimenti precisi che in qualche maniera rendono molto più difficile chi sta all'esterno capire come la pubblica amministrazione funziona. Quindi ancora una volta cercando una definizione condivisa del termine accountability, se me la lasciate passare, probabilmente l'accountability è anche il superamento della burocrazia, accountability è anche un modo per rendere la burocrazia più facile, più comprensibile per scavallare il problema della difficoltà della comprensione dei problemi e riuscire a tornare al tema della condivisione, il tema del contributo pubblico. La tecnologia in questo caso ci aiuta, io partivo proprio dall'esempio di Patrick Geddes e dal modo in cui ha legato problemi del territorio a partecipazione pubblica per mostrarvi questo strumento che è uno straclassico degli strumenti di open government a livello internazionale, si chiama Fix My Street, non so se avete avuto modo di sentirne parlare se ci siete mai capitati, è un tool di cui si è dotato inizialmente il City Council di Londra, poi si è più o meno esteso alle altre municipalità inglesi e sostanzialmente permette di fare delle segnalazioni di malfunzionamento di alcune infrastrutture urbane, segnalare la buca piuttosto che la lampada che non funziona, il problema di un allagamento e vengono tutti rappresentati con questi pallini che vedete rappresentati sulle mappe. L'applicazione quindi nel momento in cui un cittadino genera un feedback strutturato e geolocalizzato in questo caso sulla base di un proprio, di un inserfizio in cui si imbatte, la pubblica amministrazione, questo feedback ritorna alla pubblica amministrazione la quale può intervenire in maniera diretta. L'intervento, i tempi di intervento, le modalità con cui questi interventi vengono fatte sono visibili a tutti, quindi in questo caso a mio avviso è davvero un perfetto esempio di come il tema della partecipazione e il tema dell'accountability possono essere fortemente collerati. In realtà la stessa applicazione FixMyStreet è fatta per generare dei report a cadenza più o meno settimanale, ma anche riguardanti le singole aggregati territoriali, in cui si mostra quante segnalazioni sono state fatte e quante segnalazioni devono ancora essere risolte. Capite, per una pubblica amministrazione rendere così visibile all'esterno il proprio modo di procedere è una cosa interessante, in qualche maniera diventa anche stimolo per i cittadini nel fare la segnalazione, nel contribuire a rendere la pubblica amministrazione di Londra, piuttosto che le altre città inglesi, consapevoli di quelli che sono i problemi e quindi in qualche maniera partecipare alla loro risoluzione, già semplicemente conclamandoli e monitorando lo stato di avanzamento della risoluzione del problema segnalato. Quindi certamente c'è un problema di accesso, accedere alle informazioni genera accountability, però l'accesso deve essere fatto in maniera strutturata, in questo caso il tema più ampio è quello che vedevamo nel webinar precedente, il tema più strettamente legato ai dati aperti, cioè la tecnologia rende l'accesso più semplice e i dati in particolare sono una delle materie che meglio di altri si prestano a essere riutilizzati e a essere compresi anche all'esterno. Certamente i dati non sono l'ultica caratteristica o quantomeno esporre i dati non assolve il problema, non risolve o quantomeno certamente permette un primo passaggio, però se ci riflettete, anche una volta che i dati sono resi disponibili, che i dati sono accessibili a chiunque, poi comprendere quelle informazioni diventa particolarmente difficile. Immaginate un bilancio, qualunque pubblica amministrazione esponga sul proprio sito il bilancio previsionale o consuntivo, per forza di cose genera una simmetria informativa nei confronti di chi lo legge, sono pochissime le persone in grado di leggere un bilancio, sono ancora di meno le persone in grado di leggere un bilancio di una pubblica amministrazione che a sua volta deve essere confrontato con bilanci di altre pubbliche amministrazioni più o meno dello stesso livello per riuscire a capire se quel bilancio è ben gestito o è stato gestito male o se ci sono degli impegni di spesa che poi devono essere colmate, insomma è difficile, partendo dai singoli dati è difficile comprendere quello che succede. Quindi rispetto al tema dell'esposizione dei dati della mera trasparenza, è interessante attivare politiche di divulgazione, cioè non solo espongo i dati come pubblica amministrazione, ma mi impegno anche a spiegare che cosa c'è scritto in quei dati, rendendo quei dati disponibili anche a chi voglia fare letture alternative rispetto a una mia prima lettura divulgativa. Questa cosa è molto difficile, il tema delle infografiche, il tema della rappresentazione visuale delle informazioni che se volete si collega direttamente al tema della tecnologia, la possibilità che ci sia un accesso da parte di chiunque a queste informazioni e che grafiche di questo tipo possano essere autoalimentate, possono alimentarsi da sole, diventa interessante, diventa utile per la pubblica amministrazione, diventa utilissimo per i cittadini che vogliono capire che cosa sta succedendo. Vi dicevo, anzi brevissimo inciso, io in questa carrellata di temi che è strettamente collegati al tema più ampio, quello che trattiamo oggi, della accountability, se avete notato ho fatto pochi esempi rispetto agli strumenti, in questo caso ho volutamente omesso gli strumenti dell'accountability perché ci dedicheremo al webinar successivo. Per il momento invece su questo webinar mi faceva piacere ricollegarmi ai temi del primo modulo, del secondo modulo scusate, e provare a ragionare su quelle che sono quantomeno le definizioni di base, quelli che sono i concetti di base che rendono l'accountability nella nostra eccezione, quello che è, quello che cerchiamo di raccontarvi attraverso questo corso e attraverso questi seminari. Probabilmente diventa molto più utile, piuttosto che ragionare sugli strumenti, o quantomeno prima di ragionare sugli strumenti, cosa che avverrà nel webinar di prossimo, però a vedere un caso, un caso italiano e probabilmente uno dei migliori casi anche a livello internazionale, che riguarda l'accountability dei fondi europei. Voi considerate che nel settenno 14-20, questa slide è completamente partita, però le risorse finanziarie disponibili per i fondi strutturali sono 133 miliardi di Euro, sono un sacco di soldi e capite che in questo momento una quantità di denaro simile non può non essere non gestita in maniera accountable, capite che rispetto ai fondi strutturali, lavorando in un pubblico amministrazione, certamente sapete, probabilmente anche meglio di me, come funziona l'enorme quantità di soggetti coinvolti nella definizione di una politica europea basata su fondi strutturali, esiste un problema di finanziamento, esiste una questione di composizione dei fondi e di destinazione dei fondi, insomma una quantità di denaro così ampia rispetto a una politica così complessa ha un disperato bisogno di accountability, ha un disperato bisogno di trasparenza. L'Agenzia per la coesione territoriale si è fatta carico di assolvere al bisogno di trasparenza rappresentato da una quantità così grande di denaro, da una politica così complessa come quella della programmazione dei fondi strutturali europei e qualche anno fa ha sviluppato, progettato e realizzato e mantenuto nel tempo il sito Open Coesione. Open Coesione fa una cosa difficilissima se ci pensate, ma lo fa estremamente bene, cioè riesce a raccontare la complessità della gestione dei fondi strutturali in Italia in maniera estremamente semplice, attraverso grafica, attraverso mappe, attraverso la condivisione dei dati accessibili a chiunque, un lavoro enorme portato avanti dall'Agenzia per la coesione territoriale che davvero, quantomeno per chi presidia questo tema all'interno della pubblica amministrazione ci rende orgogliosi che nella pubblica amministrazione italiana sia riuscita a gestire in maniera così brillante il tema dell'accountability dei fondi strutturali e non solo, nel senso che navigando il portale Open Coesione trovate dei grafici, delle mappe che rendono veramente molto semplice rispondere a domande estremamente complesse, ad esempio le fonti di finanziamento che incidono sui fondi europei, ad esempio è possibile fare dei filtri territoriali, in questo caso ho selezionato la regione Sardegna e quindi mi dice che genere di fondi, quanto è il finanziamento, quanto è l'impegnato, quanto è lo speso, quali sono le politiche attivate, quali sono gli altri territori, insomma mi dà tutta una serie di informazioni che sarebbe veramente complicatissima riuscire a recuperare se non ci fosse un portale simile a organizzarle. Non solo, il portale Open Coesione divulga, come dicevamo prima, la complessità della gestione dei fondi strutturali, attraverso loro le chiamano pillole di Open Coesione, in realtà sono contenuti redazionali fatti dalla redazione appunto di Open Coesione che spiegano che cosa sta avvenendo sulla programmazione comunitaria, raccontano quello che sta avvenendo in Italia, le buone prassi e fanno dei focus specifici su alcune caratteristiche. La cosa interessante, probabilmente l'aspetto che davvero rende Open Coesione un portale completo dal punto di vista dell'accountability è che l'agenzia per la coesione non si è fermata lì, proprio partendo dalla disponibilità dei dati resi disponibili da Open Coesione, c'è un portale che in qualche maniera è associato a Open Coesione e si chiama Monitor, ed è una maratona di monitoraggio pubblico, su questo c'è una video-rezione dedicata al tema del monitoraggio civico, Open Coesione è una piattaforma strutturata in monitoraggio civico attraverso cui chiunque abbia interesse a dare una propria valutazione di come vengono spesi i fondi strutturali, di come stanno andando avanti le politiche di coesione in Italia, può fare, può organizzare un proprio report che prendono più o meno questa forma qui e quindi segnalare eventuali problemi, segnalare se la politica finanziata dei fondi strutturali sta andando avanti, se la politica piuttosto che l'opera, piuttosto che il servizio sta andando avanti, se può farlo in maniera strutturata e quando parliamo di maniera strutturata, ad esempio qui vedete il codice unico del progetto del CUP, un identificativo specifico per questo genere di politiche, ci sono delle descrizioni, in alcuni casi ci sono delle interviste, c'è una geolocalizzazione, insomma tutta una serie di informazioni che rendono estremamente facile monitorare il modo in cui quei soldi vengono spesi, quegli investimenti vengono fatti e come la pubblica amministrazione italiana li sta gestendo. È interessante notare, in questo caso un brevissimo inciso, che queste modalità di valutazione delle politiche pubbliche attraverso l'accountability non riguarda soltanto iniziative portate avanti dalla stessa pubblica amministrazione, ma la disponibilità di dati, la possibilità di far collaborare chiunque, anche con professionalità diverse, all'analisi delle politiche pubbliche genera anche portali che non sono pubblica amministrazione, ma che fanno una valutazione su come la pubblica amministrazione sta gestendo eventuali problemi o alcune politiche. Confiscati bene, ad esempio è un sito che prendendo i dati resi disponibili in maniera più o meno aperta dalla pubblica amministrazione sulla gestione dei beni confiscati alla mafia, dà una serie di valutazioni su dove si trovano questi beni, su qual è il loro valore, su come vengono gestiti, su come vengono riaffidati, su come la pubblica amministrazione si sta facendo carico di gestire al meglio questo patrimonio. Vedete anche qui una tecnica tipica dell'open government, analisi grafiche, mappe che rendono particolarmente facile la divulgazione di un tema così complicato, diventa un'occasione per generare accountability dall'esterno rispetto alla pubblica amministrazione. Infine, davvero io mi avvio alla conclusione su questo. Uno degli aspetti più interessanti, sempre tornando al portale Open Coesione dell'Agenzia di Coesione italiana, prima parlavamo di quanto è indispensabile nell'attivazione di politica accountability, porsi il problema dell'accompagnamento, cioè porsi il problema di far capire ai cittadini che l'accountability è un loro diritto e che quindi in qualche maniera devono esercitarlo, devono interessarsi a quello che fa la pubblica amministrazione, altrimenti è più facile che ci siano problemi. In questo caso Open Coesione fa proprio questa esigenza di contenuti da far passare ai cittadini, questa indispensabile caratteristica di divulgazione delle informazioni e lo fa attraverso un'iniziativa molto specifica dedicata al tema delle scuole che se volete è anche indicativo come luogo, nel senso che la cultura dell'accountability, della trasparenza e della pubblica amministrazione va coltivata innanzitutto a partire dalle scuole, è un ottimo momento per parlare di accountability e per raccontare ai cittadini che uno dei loro diritti in questo momento è l'accesso alle informazioni anche in maniera strutturata, così come avviene per le informazioni di Open Coesione che abbiamo visto prima e quindi in questo caso Scuola di Open Coesione è un progetto che le scuole possono attivare e quindi gli esperti del portale Open Coesione o esperti di scuola di Open Coesione vanno in aula e portano avanti dei laboratori fatti insieme ai ragazzi, peraltro credo che nelle passate edizioni in Sardegna ce ne fossero più di qualche scuola che ha aderito a questa iniziativa, quindi insomma è portata avanti in maniera omogenea più o meno in tutta Italia, sono molte le scuole che hanno aderito e in questo caso gli esperti di Open Coesione non solo raccontano quanto sia importante la valutazione delle politiche pubbliche da parte dei cittadini, ma danno anche degli strumenti operativi ai ragazzi per imparare ad esempio a generare infografiche, per imparare ad esempio a scrivere un articolo di data journalism, per analizzare i dati, non è soltanto, non passa soltanto la dottrina, ma passano anche strumenti utili a rendere con la dottrina una materia viva, una caratteristica che davvero chiunque può utilizzare per migliorare la pubblica amministrazione e quindi per rendere migliore il modo in cui vengono gestiti i problemi. Ci tenevo, è un orgoglio nazionale se volete ed è anche un tanto di cappello ai colleghi che se ne stanno occupando più da qualche anno, Open Coesione e Moniton qualche anno fa hanno vinto nel 2014 un premio internazionale veramente molto prestigioso messo in paglio da Open Government Partnership che si chiamano Open Government War, classificandosi quarti a livello internazionale come best practice sulla trasparenza, l'accountability e l'engagement e quindi la partecipazione dei cittadini. Quindi davvero vi parlo e anche nelle video lezioni è capitato spesso di citare l'esempio di Open Coesione e delle iniziative come Moniton e a scuole di Open Coesione adesso collegate perché davvero sono a livello internazionale riconosciute come una delle cose migliori che sono state fatte dalle pubbliche amministrazioni rispetto a questi temi. Davvero avviandomi alla conclusione di questa chiacchierata che ci siamo fatti insieme, vedo che c'è qualche domanda e le affrontiamo subito, volevo dirvi che come vi accennovo prima, in questo webinar non abbiamo visto gli strumenti di cui una pubblica amministrazione si può dotare per rendersi accanto perché abbiamo deciso che è una cosa talmente importante che ci dedichiamo un modulo che è il terzo modulo del corso di completo approfondimento rispetto a quelle lezioni di strumenti e quindi anche il webinar di un'edì prossimo sarà dedicato in particolare a come una pubblica amministrazione può fare accantability al proprio interno e come può rendersi accanto, con quali strumenti può rendersi accanto rispetto all'esterno. C'era Caterina che in chat diceva oltre all'investimento economico è indispensabile a rinunciare all'opacità dell'APA e all'irresponsabilità diffusa. Irresponsabilità secondo me è la parola chiave di quello che dicevi un attimo fa in chat perché in effetti se volete l'accountability è una sorta di richiamo alla responsabilità, cioè se l'accountability fosse davvero e funzionasse in maniera capillare su tutte le pubbliche amministrazioni, a sua volta le persone, i dipendenti pubblici che gestiscono con i fondi e le pubbliche amministrazioni che portano avanti e attivano quelle politiche per forza di cose devono essere più responsabili nella gestione, anche perché la visibilità in questo caso se pensate alla parola inglese per trasparenza è sunlight, cioè è la luce del sole che in qualche maniera illumina e rende meno opaca la situazione e riduce anche in maniera statistica la possibilità che si possano ridare problemi di corruzione o problemi di male amministrazione all'interno della pubblica amministrazione, però è una questione condivisa, devono partecipare tutti, altrimenti non è solo una cosa che daga bibbo o dalle iene, dovrebbe essere un controllo diffuso, dovrebbe essere un controllo che riguarda tutti i cittadini che certamente viene amplificato dalla stampa e dai mezzi di comunicazione, vedremo nel prossimo webinar come in qualche maniera i media sono una sorta di cassa di risonanza della trasparenza e dell'accountability, però un po' come riprendendo la questione di open coesione e la questione di open coesione legata al tema dell'educazione e la trasparenza portata avanti da scuola di open coesione, a mio avviso è davvero importante che sia un'azione organica, che sia un'azione distribuita nel tempo, che non sia qualcosa di collocato in un momento preciso, ma che diventi parte del modo in cui la pubblica amministrazione Grazie!